Domani per l'Open Week, la settimana dedicata al femminile, è una giornata particolare per l'ospedale di Urbino? Assolutamente sì, quest'anno l'Associazione Onda ha voluto dare a ogni ospedale la possibilità di organizzare una giornata in questa Open Week a tema. Noi abbiamo pensato di fare una giornata sulla prevenzione dei tumori del collo dell'utero. Domani poi anche la possibilità da parte delle partecipanti a uno screening vero e proprio? Assolutamente sì, domani faremo questo incontro aperto a tutto il pubblico, un incontro con la popolazione alle ore 9.30, presso l'ospedale di Urbino, al pian terreno, nella sala riunioni, in cui non sarò solamente io il relatore, ma ci sarà il relatore da parte di tutto il percorso screening. Dopodiché potrà essere la possibilità di avere sia incontri con me e il dottor Martino per eventuali indicazioni, spiegazioni o qualsiasi dubbio che può venire o che hanno le donne. In più le ostetriche del territorio si sono offerte ad effettuare lo screening, cioè fare un pap test all'interno dell'ospedale, cosa che non si fa, perché lo screening viene fatto sul territorio e questa è la cosa importante che deve passare per poter dare la possibilità alle donne che partecipano a rientrare e a fare questo pap test gratuito che altrimenti pagherebbero se entrano in un altro modo nello screening. Bisogna telefonare nella segreteria delle ostenti? Assolutamente sì, bisogna telefonare alla nostra segreteria 0722 3011 15 oppure 3011 24.